Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR. Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante pensato per farvi addormentare. Se questo video vi piace vi ricordo di lasciare un like ma soprattutto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video rilassanti. Oggi proverò a rilassarvi attraverso un oggetto che a me piace veramente moltissimo. Come avrete visto dall'anteprima del video si tratta di un bastone della pioggia. E' un oggetto davvero molto particolare che avevo inserito nella mia lista dei desideri Amazon di cui trovate il link giù nell'ufo box. Nella lista ci sono appunto diversi oggetti e attrezzatura varia utile per il canale per fare dei video ASMR e qualcuno di voi mi ha regalato proprio il bastone della pioggia. Spero quindi che il video che state per guardare possa piacervi davvero e ringrazio tantissimo chi mi ha donato questo oggetto. Adesso vi chiedo di distendervi e di indossare le cuffie oppure gli auricolari. A proposito di cuffie date un'occhiata all'info box perché avrete giù in descrizione il link alle sleep phones, cioè delle cuffie veramente molto adatte per l'ascolto dell'SMR anche mentre si dorme. Bene, iniziamo questa sessione di rilassamento. Bene, iniziamo questa sessione di rilassamento. Bene, iniziamo questa sessione. Bene, iniziamo questa sessione. Bene, iniziamo questa sessione di crotta bagli dei nostri get początku due figari. Bene, iniziamo questa sessioni rilassamento. Bene, iniziamo questa sessioni di идitt척ità passa in Sentie. Bene,주eten questa sessioni realizzazione buona montellaшейze 여러분. Bene, iniziamo questa sessione di rilassamento streaming. Bene, super bene, pulite anche palazzi di rilassamento, Vibic Shannon量 di Teuf忙 diकare elder connection. Bene, Per nessuno e se alimenta subito NAUstate. Bene, le salit Honorio degli enti di Grazie a tutti. tra l'altro vorrei che mi diceste se questo suono vi piace perché avrei intenzione di regalarvi una meditazione guidata con il suono del bastone della pioggia in sottofondo io trovo che sia davvero un suono bellissimo che possa essere molto utile per concentrarsi per esempio mentre si studia o si lavora al computer oppure a botto mentre si fa meditazione mi sto avvicinando negli ultimi tempi alla meditazione perché sto frequentando un corso un corso per diventare mindfulness educator quindi mi sto avvicinando al mondo della mindfulness ho un progetto in mente che vedrete realizzarsi tra non molto e sono storie che vi piacerà tantissimo chi mi segue su instagram ha già capito qualcosa ho un progetto in attenzione in teoria il bastone della pioggia si chiama così perché il suono che si produce muovendolo dovrebbe ricordare il suono di un temporale però a mio avviso non è proprio così si forse in alcuni momenti se è modulato con la giusta intensità può ricordare il picchettivo della pioggia sui vetri dell'automobile per esempio oppure sul tetto sulle finestre insomma però mi sembra simile a qualcos'altro si mi sembra si ci ci a voi a cosa fa pensare? scrivetemelo nei commenti se siete ancora svegli scrivetemelo scrivetemelo tra l'altro questo è super bello secondo me è veramente ben decorato non so se riusciate a vedere qualcosa sto pensando che questo video sarebbe perfetto con il suono binaurale se avessi un altro microfono come questo a tenere alla mia destra se per caso qualcuno volesse farsi avanti è disponibile sulla mia lista Amazon un altro microfono ho letto i vostri commenti sul video in cui ho inaugurato questo rod e ovviamente non siete stati molto soddisfatti la volta scorsa il motivo credo sia soprattutto il fatto di aver montato il microfono al contrario però sto lavorando anche sulle impostazioni l'unica soluzione è quella di sperimentare con voi in modo che mi diciate in che modo preferite il suono tra l'altro voglio ringraziare anche Cristiano per avermi dato una mano a capire alcuni sentaggi a capire un momento pubblicitario se per caso siete in crisi con i regali di San Valentino considerate che sul sito di Pampling con il quale collaboro lo sapete indosso sempre le loro bellissime magliette e anche adesso ne ho una anche se non potrete vederla magari ve la mostro in una clip qui comunque dicevo sul sito di Pampling c'è la promozione tutte le maglie a 10 euro minimo 3 magliette quindi 3x30 in pratica è una promozione veramente imperdibile perchè sapete che i prezzi sono solitamente superiori e non c'è neanche bisogno del codice quindi andate a dare un'occhiata trovate sempre giù in descrizione il mio link affiliato perciò 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 Grazie. Questo suono mi riempie di tingles, non so se anche a voi faccio venire i brividi, lo fate sapere già nei commenti, se ti rilassa solamente o se ti provoca altri brividini. Io vi ringrazio, ti ringrazio per aver guardato questo video, per essere stato o stata in mia compagnia fino a questo momento. Mi raccomando a non andare via senza aver lasciato un mi piace. E noi ci vediamo come al solito, se ti va, nel prossimo video. Bacini fattosi. Adesso, tocca a te. Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista. Oppure abbonati, se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew. Ah, e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. Penso possano piacerti. Buonanotte. Buonanotte.